Ogni giorno un capitano sa che dovrà trovare tutte queste cagate raccolte a pagina 777 di media video Eh, perché sa un ron è così grande? Ogni capitano affonda con la sua nave Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video Ci siamo qua su agar.io E tanto che non lo porto, ok? Lo riporto, lo sto riportando adesso E comunque sia volevo dirvi una cosa prima di partire con il gameplay Una cosa molto veloce Non so se domani ci sarà il Q&A o un vlog speciale E questa cosa verrà decisa da me Quando avrete già visto questo video Avrò già fatto il video, avrò già deciso cosa fare per domani E volevo portare un vlog serio Sulle mie paure riguardo a Youtube Sulle mie paure riguardo alla vita Sulle mie paure riguardo al futuro Del mio futuro, magari voglio parlarvi E non so cos'altro Quindi probabilmente porterò un vlog serio Perché magari un giorno potrebbe essere troppo tardi per fare questo vlog serio Ma non potrebbe essere mai tardi per un Q&A Quindi magari se lo faccio settimana prossima il Q&A Non muore nessuno Mentre magari questo video Se viene un pochino ritardato poi Cioè nel tempo Perdo l'occasione di fare questo video Quindi, quindi, quindi vorrei farlo domani Allora ragazzi eccoci qua L'altra volta ho voluto registrare in schermo full E in pratica veniva tipo metà schermo Anche adattando e tutte queste cose Quindi il gioco così Vedrete la barra di Google Vedrete quello che ho qua sotto Sono i programmi che uso per editare I giochi che faccio più spesso Ovvero quelli su Steam Quelli su LOL E quelli su Battle.net E gioco così che almeno siete sotto lo schermo E potete gustarvi tutto il gioco Non solo metà D'altrata si vedeva dalla pallina Verso in alto a sinistra e basta Quindi non è che fosse un gran che sinceramente Eccoci qua ragazzi Sbucere mai come al solito Belline Comunque ragazzi sono delle skin incredibili Oddio Attenzione Stepney No 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 Tuglife no Dai dai sei più lento Vai via Cosa volevo dire? Non lo so Mi dimentico sempre tutto Mi dimentico tutto No non mi mangi Se ti lanci sei Ecco La gente vede Mi rispetta La gente mi rispetta Mi rispetta Oddio No 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 Allora ricerca del primo E' lui Non è tanto grande rispetto a altre partite Che ho fatto online Che c'è della gente che è tipo Non ha Non è uguale C'è tipo enorme Ma lo vedete? Cioè questo io andava a morire di dentro E' stronzo allora Cioè Ti fai mangiare o no? Dai Comunque ragazzi Per chi avessi video di ieri Abbiamo già avuto un piccolo Contratempo Con la mappa survival Ma comunque arriverà Cioè ragazzi Questo io con il Pikachu Con i Con il cuoricino E' bellino Però il Reddit Che ci schiantava dentro Sinceramente Poteva anche schiantarsi dentro di me Tanto per dirne una Uh 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 Qui ci muoio Qui ci muoio Qui ci muoio Qui ci muoio Qualcuno che si faccia mangiare Uno Uno che si faccia mangiare Uno Che si faccia mangiare Molto meglio morire dall'Ucraina Molto molto meglio Eh si Sbucci no eh Sbucci no Però siamo morti tutti dall'Ucraina Non è che do una pallina sbucci no Muoio con tutta la pallina dall'Ucraina Fa anche rima Pallina Ucraina Nel tempo il gatto si sta Scartavetrando una guancia Charlie Charlie No Charlie Moon se ne è andata Ma perché lo vuoi più veloce di me? Cos'è sta mafia? Ma questo continua a seguirmi Ma questo è rotto le palle Dice qualcuno Voglio dire vuoi rotto le palle o no? Non so ne Agar Ora tu dimmi Cosa c'è di bello nel chiamarsi Agar Su Agar Eh? Cioè lui non lo posso mangiare Dai ma ero più Oddio bruttissimo Lo Spongebob fatto Fatta no Questo è Spongebob che non dorme Se non sbaglio Nel cartone Poco non lo so Non lo guardo Non ho troppo tempo Oh guarda c'è Sbucci Ormai questo è il verso Che metto sempre Nella internet Che lo faccio sempre Ci sta no? Come verso Il verso ci sta Comunque ragazzi Un giorno arriverà una postazione Tra virgolette seria Con una scrivania cazzuta E del posto per mettere un microfono Che non sia attaccato al braccio E quando urlo Se urlassi Voi mi chiedete perché non urlo Uno perché non sono una persona Che a cui piace urlare Quando gioco con i miei amici Urlo eh Buona se urlo Però magari Penso anche che vi da fastidio A voi se urli Ora muoio Ora muoio Ora muoio Fatti mangiare da me no? No E quindi penso che vi da fastidio Quindi non lo faccio Anche perché se urlassi adesso ragazzi Probabilmente Il 90% di voi Perderebbero l'udito Quindi è bene che non urli Quando avrò una postazione seria Avrò una webcam Che punta un po' più in basso Per lo meno vedrete Non solo questa parte del corpo Ma anche Un po' più in basso Un po' più in tozzo Comunque mi risulta Più facile urlare Quando c'è più persone Che da sola Se urla sola in camera Sembra scemo Lo faccio eh Il gusto lo faccio No Cioè vedete Lui ha detto Torno indietro Mi faccio mangiare Da Wun Wun Poi Wun Wun E anche il primo Ed era anche quello Chi è Wun Wun? Perché l'altra volta C'era tipo Un pro di qualcosa E tutti avevano quel nome lì Ora c'è Wun Wun Magari è un pro anche lui Sono tutti uguali Probabilmente qui ragazzi Sono morto e che hanno fiddato Due volte la pallina Sti capelli come stanno oggi Gli capelli improponibili oggi Non vogliono stare da nessuna parte Da poi li taglierò Hashtag Sbucitagliateli Io spero non si sentiranno I lavori sono fuori Cioè non li sento molto nemmeno io Però Spero non si sentiranno molto Perché sennò potrei spaccare tutto Mamma mia Che tricherigno Sbucci Che grande Che grande Questo sbucci Questo sbucci è un grande Comunque ragazzi Dove essere all'ultimo piano Perché sono troppo Irrascibile O agitavo Quando sono nervoso Non c'è una stessa cosa Cioè Quando c'è i lavori fuori E non posso registrare O meglio Li iniziano mentre registro È una cosa che odio Cioè se fosse il quinto piano Forse li sentirei un po' meno Ma se andai piano terra Ce l'ho qui Ovviamente Con le macchine Che parcheggiano Oppure le lasciano accese E partono dopo sette anni Che l'hanno accese Scenderei di spaccare la macchina Come dire Vai figlio di puttana Lascia ancora Cosa fa la finestra Che fai? Big show Attenzione Wrestlermania Dalle ammelle qua lì Guarda ci attira Ci attira in una strappola E ci siamo nascati tutti Tutti ci siamo nascati Questo è il paradiso Le caramelle Guarda lì Guarda le bestie Guarda le bestie di ventura Ehi Finlandia Finlandia Do tu pensi di andare? Ma Mi ha tirato C'è la gravità Lui anche Noi non siamo pianeti Gli ricordate voi? Gli ricordate voi? Gli ricordo io? Gli ricordate che non siamo dei cavolo di pianeti Che non abbiamo la gravità intorno? Siamo delle cellule? Cioè io sto facendo un discorso serio E la pallina gialla Mi rompe i coglioni Mentre faccio il discorso No 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 Pallina gialla Is the new enemy In generale Cioè Do ero un po' Andrò c'è Agari O Tu ti cerchi la pallina gialla Eccola lì Anche 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 arancione Eccola lì Questo è perché Il tuo compare Mi ha Mangiato Mentre facevo un discorso serio E ti spacco tutto Anche Anche lei No Lui è troppo grande No 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 Scherzato Scherzato Uh uh Giallo 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 Va bene Vai Io sono a posto Ti cerco Tutta la partina Guarda se ve l'ho mangiato Se l'ho apposto A me stesso Pensa di Pensa di farmi mollare Lui pensa davvero Che io possa mollare Questa decisione Via 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 Cioè Big big Albania No 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 Oh ma vero Ti cazzo Le vede Coglione No No Su Allina gialla Mi è sfuggita Perché tutti lì Mi hanno provato a mangiare Sono troppo grande Per lui Go 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 Pensare Fai ganso Io li vuo dietro E Guarda lì Quanta roba Guarda quanta roba A parte quante palline Ci sono qua Giallo Sauron 7R C'era quello violino Mera garbao Ah ma è lui Ha paure ragazzo Via 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 Perché Sauron È così grande No 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 Ogni capitano Affonda Quello suonavo Ogni giorno Nella giungla Un capitano sa Che dovrà correre Più veloce Della gazzella Per affondare Con la sua nana Trovate tutte queste Cagate raccolte A pagina 777 Di media video No 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 Questa ragazza È la mia ultima vita Quindi voglio arrivare Primo Oh E il Brasile È andato Via E in mezzo E c'è anche il giallo Nel Brasile Quindi va bene Dobbiamo continuare Io sono ammitori No Invece del rosso Adesso Vedi il giallo Io Devo big albania Quello prima mi ha fatto morire Uuuu Uuuu Questo ragazzi Si chiama Pro Proagine Cioè L'ho mangiato prima Quante buone caramelle Vagazzi Ci sono andate De buone caramelle Lui si fa a mangiare Uuuu Uuuu No però Così no C'è già mi è mancato Quindi sei stronzo Eh che cazzo Però così non vale Allora ragazzi Il video termina qua Anche se loro fanno Gli scorretti Perché certi mancano Quindi devi essere consapevole Che fai schifo A questo gioco E poi si risparano Facile Ti spari dieci volte Mi prendi Allora ragazzi Non tutti sono proprio come me A questo gioco I miei capelli Non sa che cosa Ti sta succedendo In questi giorni Hanno delle mutazioni Instabili No mi fanno schifosi Ok meglio adesso Comunque voglio ricordarvi Che domani alle 18 Per chi si fosse perso I video di ieri Di minecraft Io farò una streaming Dalle 18 alle 24 Dove farò giochi Da computer Giochi da playstation Devo solo organizzarmi È tutto pronto Devo solo organizzarmi Con i giochi E con gli schermi Che non è facile Per me ricordo Quindi il mio canale Twitch Sarà qui sotto In descrizione Come al solito Vi ricordo di passare Dei miei social network Che sono qua sotto In descrizione Instagram Facebook Adesso anche Twitch Lo considero Un social network Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Lasciate un bel mi piace Noi ci vediamo Domani alle 13 e 30 Per un nuovo video Per oggi è tutto Ciao nini Ciao nini Ciao nini Ciao nini